Le farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare del gruppo Aspes in prima linea nella lotta contro il caldo. Anche quest'anno infatti le farmacie della società di servizi pesarese aderiscono alla campagna Proteggiamoci dal caldo promossa dal Ministero della Salute. Oltre a contribuire alla diffusione di informazioni utili per sfuggire all'AFA applicano uno sconto del 20% su alcuni integratori a marchio farmaciecomunali.it, integratori a base di magnesio e potassio ma anche di amminoacidi utili per contrastare gli effetti delle alte temperature. Noi siamo delle farmacie che operano sul mercato quindi in regime di concorrenza ma al tempo stesso non dimentichiamo come farmacie comunali perché sono nate, insomma perché i comuni tanti anni fa hanno deciso di mettere in piedi, di creare una rete importante come quella di Pesaro legata appunto alle farmacie sul territorio ed è quella della finalità sociale e creare prodotti come i nostri, quelli a farmaciecomunali.it già che hanno prezzi molto bassi e scontarli ulteriormente nelle periodi come questo legati insomma a promozioni particolari proprio per far sì che tutte le fasce anche le più deboli dal punto di vista economico possano affrontare al meglio situazioni di pericolo perché il caldo poi per gli anziani soprattutto e per i bambini possono creare situazioni di pericolo e noi ci siamo messi a disposizione appunto dei nostri utenti e delle popolazioni che serviamo sui territori in cui operiamo. L'obiettivo della campagna è duplice, prevenire i danni causati dalle elevate temperature e informare i cittadini sulle previsioni delle ondate di calore nel proprio territorio. Inoltre le farmacie esporranno locandine in cui sono elencate le dieci regole utili per difendersi dal caldo. La prevenzione è quella di non uscire nelle ore più calde, di coprire il capo con un cappello, di bere tanta acqua e reidratarsi non solo con acqua ma anche con quei sali minerali che si perdono durante la sudorazione durante il giorno quindi questo è fondamentale non solo per evitare svenimenti o cali di pressione ma anche crampi o quant'altro. Infatti abbiamo fatto formulare per noi dei sali minerali a base di potassio e magnesio che servono non solo per queste cose che dicevo ma sono adatti a tutti perché privi di glucosio quindi di zuccheri, privi di lattosio e di glutine quindi adatti anche a diabetici, a celiaci o a chi praticamente intolleranti al latte.